Faremo esplodere la nave. Correremo i nostri rischi nella capsula. Bene. Servirà del refrigerante per il sistema di sopravvivenza. Parker, la capsula è pronta. Hai preparato le tanniche di refrigerante? Porta avanti. Vuoi venire? Faccio una mano. Mosterior. Togliti di mezzo. Togliti di mezzo. L'aspetto ci uccida. Ora ha aperto la manzione. L'aspetto ci uccida. Togliti di mezzo. L'aspetto. Merda. No. No. Parker. Lambert. 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 Parker. Oddio. No. No. Oddio. Oh, cazzo. 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 Oh. Oh, cazzo. Oh. Grazie a tutti. 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 E' per questo che esistono delle regole di quarantena. Ripley, fine trasmissione. Grazie a tutti. No, no, no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Ok, ci siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.